Non ho detto che non capiresti. Dai, sentiamo, che cosa avrà mai fatto lei per fare tutta stile questione a me? Lascia proprio, ma... Ti ho appena detto che ho ammazzato uno, sta no? Cosa ci sarà andato? C'è, c'è. Succhiaglielo a tuo padre. Eh? Una figlia che fa un pompino a suo padre è forse peggio che ammazzare qualcuno, sì oppure no? Ma ne fatti? Rispondi! Oddio, non lo so, ma ne fatti? Eh, sì. Ma scusate, ma non te stavo sul cazzo? Ma certo che non te stavo sul cazzo, certo che non te stavo sul cazzo. Se da quando ero piccola devo voler scappare. Ma poi ho cominciato a vedere in maniera differente. Guarda, se potessi infilare un coltato, non faccio la ragione per il naso e spingere in su, fino ad arrivare nella tua bocca. Non la fatti così. Meglio, meglio, così tu devi chiedere, vuole chi è stato tua figlia? E perché l'ha fatto lui? Non lo so, è che ce lo sa, è come se lo... Oddio, ma che c'hai? Non riesco a respigare. E perché? Perché sto a pensare come respigo e ogni volta che c'è penso non riesco più a respigare. Ah, no, non c'è pensato! E a te dove fai? Teschio, mi ha detto che se tu pensi che a te viene un infarto, però se ci pensi intensamente, poi l'infarto ti viene, capito? E te lo fai venire tu con il tuo cazzo di testa, io non voglio ammazzare il tuo cazzo di testa. E devo pensare a qualcosa. Un capitano! C'è solo un capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano! Entro nella mia stanza. Era sb...